Lasciate che Cristo trasformi il vostro naturale ottimismo in speranza cristiana, la vostra energia in virtù morale, la vostra buona volontà in amore genuino che si sa sacrificare. È un invito pieno di speranza quello che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti alla messa conclusiva della sesta giornata della gioventù asiatica. Presso il piazzale del castello di Emi, il pontificio ancora una volta ha rassicurato i giovani sul futuro, un domani che si tinge di gioia se raggiunto dalla luce della verità di Cristo che scaccia ogni tenebra. Dinanzi alle seducenti tentazioni del mondo, Papa Francesco ha chiesto ai giovani di non allontanare lo straniero, il bisognoso, il povero e chi ha il cuore spezzato, di non lasciar cadere nel vuoto il gemito di tante persone nelle nostre città anonime, la supplica di moltissimi contemporanei e la preghiera di tutti quei martiri che ancora oggi soffrono persecuzione e morte nel nome di Gesù. Dobbiamo essere come Cristo, ha concluso ricordando la ricca tradizione di fede, del continente asiatico che risponde a ogni domanda di aiuto con amore, misericordia e compassione.